E ancora una volta ciao ragazzi, ben ritornati in questo nuovissimo video Oggi siamo su Brawalla E andremo a vincere, a cercare di vincere qualche partita perchè non sono neanche ancora bravo E io mi metto lui Ok siamo conto a pronunciare E vediamo quanto riesco a fare Ah mi ha già tolto una vita Ok Oh È forte questo Ok Ok Allora cerchiamo Una strategia Mi metto questa Anche se mi sembra un po' scarsa ma la metto lo stesso Ok Hattori Allora vediamo 3, 2, 1 2 a 2 Ok Ok Mancava poco che la battevo Ok 1 a 1 Ora chi vince Vince tutto E ho vinto la mia prima partita da solo LOL Ok Ok Riproviamo Vabbè Proviamo a vincere contro Sentinelle 2, 2, 1 E una vita è stata tolta lui Oh Che colpo Ok Ora devo stare più attento Ehm, niente Ok Ok Sì dai Diana Sì Sì Eh non spammi con me Vabbè Io direi che il video può concludere qua Iscrivetevi al canale Se non l'avete ne ancora fatto E ci vediamo alla prossima